Sono anni di rilevanti impegni per gli alpini di Intra, anni che approderanno ad un grande evento oggi già annunciato per il prossimo 2020. Ecco, cosa accadrà nel 2020 allora Presidente? Nel 2020 avremo il raduno, il ventitresimo raduno del primo raggruppamento Piemonte, che raduna Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Francia di tutte le 25 sezioni che esistono sul territorio, sono oltre 5.000 gruppi alpini che arriveranno a Verbagna in occasione del ventitresimo raduno. Tanto per intenderci un evento che potrebbe muovere quante persone? L'anno scorso l'ultimo raduno a Saluzzo ha mosso circa 30.000 persone. E' un evento che qui coinciderà con il vostro importantissimo anniversario. Certo, è il centenario di fondazione della sezione Intra, seconda sezione in Italia, per pochi giorni dopo Torino. E' nata il 28 marzo 1920, è nata la sezione Intra, in un bar a Verbagna, perché abbiamo trovato il verbale della nascita di fondazione, che è stato in un bar a Intra. Parliamo oggi di importanti appuntamenti che riguardano la sezione Alpini e che, abbiamo saputo, potrebbero essere accompagnati anche da alcuni interventi attesi in parte anche da tempo da parte dell'amministrazione comunale. Via L'Apprezzamento per la sezione Intra, che festeggiando i cento anni è stata capace di organizzare la propria candidatura per un evento popolare così importante che porterà un beneficio economico in senso turistico alla città. Con i cento anni e alla fine della Grande Guerra, l'occasione è anche di sistemare l'argo delle rimembranze via Franzosini, dove ci sono i cippi che ricordano tanti poveri caduti nella Prima Guerra Mondiale. Noi proporremo al Consiglio Comunale di giovedì 100.000 euro per intervenire su quell'area e quindi sistemare marciapiedi, le piante e soprattutto le targhe che ricordano tanti condazionali che si sono sacrificati per la patria.